Lo sportello del cittadino finalizzato al decoro urbano ha soprattutto l'obiettivo di presentare quelle situazioni magari un po' critiche rispetto alle quali gli enti devono intervenire. Siamo con il presidente di Chima Ambiente, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Certamente la raccolta differenziata è un cammino in salita perché ci si trova dinanzi ad un altro mondo, ad un'altra forma mentis e questo passaggio, non voglio dire epocale ma quasi, ha certamente le sue difficoltà. Abbiamo visto in città i vari cassonetti. Qual è la dicitura precisa? Isole ingegnerizzate. Ingegnerizzate, benissimo. E spesso però questi cassonetti, queste isole ingegnerizzate, diciamo così, non hanno la capienza di raccogliere tutti i rifiuti, i sacchetti, diciamolo così, e molti restano così accanto a questi cassonetti, diciamo, ingegnerizzati. Dicevo, è un percorso, come dire, in fieri, in crescita. Quali misure intende adottare Chima Ambiente per risolvere il problema? Perché in effetti vedere questi cassetti, questi rifiuti, questi sacchetti non è una bella immagine. Ecco, ma voglio dire, propositivamente, cosa intendete fare? Grazie Luigi per questa domanda. E certo, quando si fanno le rivoluzioni ci sono tante criticità, tanti morti, tante difficoltà. Chi non fa niente non sbaglia mai. Assolutamente. In questo contesto dobbiamo dire che le isole ingegnerizzate si sono riscontrate non funzionali del tutto alle esigenze dei cittadini. In questi giorni aumenteremo la densità delle isole ingegnerizzate, dove già lo abbiamo fatto. Miglioreremo il servizio perché stiamo introducendo il porta a porta per le utenze di bar e ristoranti, quindi dei non domestici. Questo alleverà, ridurrà, diciamo così, l'utilizzo in maniera indiscriminata da parte degli operatori e operatori commerciali di queste isole. D'altro canto abbiamo già, in collaborazione con la Crato, su un servizio aggiuntivo che evita che rimangano per molto tempo i sacchetti nell'ambito delle isole ingegnerizzate e da qui a brevissimo avremo nuove novità, anche un miglioramento degli stessi cassonetti ingegnerizzati. Stiamo lavorando, noi insomma il disagio, chiediamo scusa ai cittadini per questo parziale disagio che stiamo dando, ma come diceva bene Luigi, chi non fa nulla non sbaglia mai. Grazie a tutti.